Strada in leggera discesa, curva a 90 gradi e 300 metri e poi via, sempre dritti fino all'arrivo. Anch'esso in discesa, queste le caratteristiche degli ultimi metri della gara vinta dalla portacolori del cesano maderno Martina Alzini, che, presa la testa del gruppo, non la molla più fino all'arrivo. Seconda la piemontese Elisa Balsamo della Vigora, accomunata dalla milanese Martina dal fatto di aver vinto come lei il tricolore su strada desordiente senza contare i numerosi titoli nazionali conquistati da entrambi all'atlete su pista. Completa il podio, la veneta Chiara Bragato, atleta della vecchia Fontana, sempre presente negli ordini d'arrivo delle corse del Triveneto. Per i colori orobici, da segnalare infine il quarto posto della seriana Silvia Persico, portacolori della Valkar PBM.